se il mondo fosse completamente buio non riusciremo a vedere nulla di ciò che ci circonda potremmo usare gli altri sensi per intuirlo ma non sapremmo distinguere i colori degli oggetti ciò che dà vita ai colori e a quello che vediamo è la luce che illumina le cose gli oggetti che vediamo non emettono luce propria sono illuminati da una luce esterna che riflette sulla loro superficie se un corpo è opaco come la roccia la luce non passa attraverso se è trasparente come il vetro la luce lo attraversa se è traslucido come una tenda lascia passare poca luce la nostra terra è illuminata di giorno dal sole che ci permette di vedere il mondo sotto una luce naturale che dona colore e composizione agli oggetti possiamo però esplorare il mondo e i colori anche al buio grazie a fonti di luce artificiale come le lampade le candele o il fuoco quando la notte guardiamo il cielo ci sembra che la luce della luna e quella delle stelle siano simili in realtà le stelle come il sole emettono luce propria e sono realmente sorgenti luminose mentre la luna riflette semplicemente la luce del sole la luna non emette luce propria